Michele Mignani, il modulo da cui ripartire e primi nomi di mercato accostati al Bari. Sono questi i temi ricorrenti in casa bianco-rossa nelle ultime ore con il tecnico ex Modena che verrà annunciato e presentato nei prossimi giorni. 4-3-1-2 per l'allenatore Ligure che potrebbe scegliere di ripartire proprio da questo schieramento con il trequartista che rappresenta il suo marchio di fabbrica o valorizzare gli esterni con un 4-3-3. Queste sono le due ipotesi. Parlando proprio di esterni tornerà a disposizione Samuele Neglia che lui conosce molto bene avendolo allenato a Siena e sarà a disposizione del tecnico già da subito dopo la convincente esperienza in prestito alla fermana con Cornacchini. Non sono gli unici nomi, piace anche il profilo di Ruben Botta, trequartista passato anche dall'Inter ed argentino con un'enorme qualità negli ultimi metri. Quest'anno con la San Benedettese ha messo a segno 8 gol e 7 assist diventando uno dei protagonisti del girone B di Serie C. Tra i profili che invece sarebbero pronti a seguire Polito D'Ascoli ci sarebbero Brosco e Puccino anche se parliamo di due calciatori che hanno diverse richieste in Serie B. La presenza del direttore sportivo potrebbe essere l'ago della bilancia nella trattativa che però non è ancora cominciata. Ora il primo tassello è il tecnico e poi di conseguenza verrà tutto il resto.